Ciao! Allora, una cosa al volo, va che bella location qua dietro, c'è altro che c'è sto qui. Allora, stavo dicendo, io sarò al Cosmoprof domenica e lunedì, insieme a Simona e Francesca e Vanessa, quindi rispettivamente Simona 7, Sister Frenchie e Everywhere Love. Quindi, io proponevo, se per voi va bene, Mac, c'è il gatto che è un po' scemo, io proponevo, se per voi va bene, di vederci, facciamo un po' come Marcy Brascia, ma ci sono un milionesimo di iscritti, vabbè, se vogliamo fare due chiacchiere così, la domenica pomeriggio per le due e mezza, Mac, gatto malefico, sta mangiando le scatolette che non, c'è le bustine che non dovrebbe mangiare, vabbè. Quindi, ripeto, domenica alle due e mezza, vicino al padiglione 36, quindi c'è il mega padiglione 36, c'è, mi sembra, l'entrata Michelino, se non mi sbaglio, quindi alle due e mezza lì, chi vuole, venireci a salutare, poi vediamo in base a chi ha i treni, chi non ha i treni, se faccio un giretto tutti insieme, ma adesso vediamo un po' come organizzare la cosa, nulla di così trascendentale, però mi fa piacere vedere chi ha l'occasione di passare al Cosmo, però a noi ci fa piacere, insomma, parlo anche a nome delle mie amicuzze, Mac. Io e Mac vi salutiamo, non so dove cazzo guardare ragazze, vi saluto, ci vediamo al Cosmo, ciao! Ciao!